Sanità, formazione, partecipazione e agricoltura sono i temi su cui si sono confrontati questo pomeriggio a Bari esperti dei diversi settori lo hanno fatto nell'incontro organizzato in vista della prossima competizione elettorale dal Movimento Puglia rappresentato da Desiree di Geronimo obiettivo è lavorare su contenuti e proposte concrete lasciando ampio spazio alla partecipazione dei cittadini da qui lo slogan innovare la politica per il cambiamento Rifiuti, costi assurdi, tasse sose, sperperi incontrollati ed emergenza a denunciarli i consiglieri regionali del gruppo Forza Italia fin dal febbraio 2007 scrivono in una nota l'assessore Rosappio raggiunta vendola smantellava il piano fitto che puntava sul recupero di energia dai rifiuti attraverso la termovalorizzazione con minori costi dei rifiuti e della tassa e della bolletta energetica per passare al recupero delle materie seconde inseguendo il sogno di scariche zero, zero rifiuti e invece si continua nella nota allo zero rifiuti si sono sostituiti i rifiuti disseminati dappertutto e il recupero delle materie seconde che avrebbe dovuto raggiungere il 65% ma è fermo al 20% adotta la città l'appello ai cittadini arriva dal Comune di Bari che presenta il nuovo regolamento per la rigenerazione e la cura dei beni comuni come le donne di Bari Vecchia che senza alcun accordo scritto da secoli si prendono cura di strade corti il Comune lancia un nuovo patto di cittadinanza e mette a disposizione beni, materiali e immateriali da adottare l'appello è a cittadini singoli, associazioni, comitati di quartiere e commercianti prendetevi cura di uno spazio comune per recuperarlo e rigenerarlo il Comune di Contro provvederà a snellire le pratiche burocratiche e semplificare la documentazione a presentare il nuovo regolamento comunale che dovrà ora passare al vaglio del Consiglio ci hanno pensato il Sindaco e l'Assessore al Patrimonio Vincenzo Brandi chiamata e reaccolta nel nome della collaborazione scuole e università i cittadini potranno dunque adottare un'area verde, un marciapiede, una rotonda o perché no un immobile dismesso per farci attività di associazioni o promozione sociale sempre nel rispetto delle regole imposte dagli uffici comunali diamo la possibilità anche di adottare la crescita della città e quindi anche l'innovazione tecnologica la programmazione di eventi, la possibilità di fare formazione per i ragazzi non solo beni materiali ma anche dati, open data, quelli non coperti da privacy flussi di informazione che potrebbero stimolare per esempio la creatività di giovani imprenditori tutte le attività che i cittadini riterranno di essere promotori e innovativi rispetto a quello che noi già oggi facciamo noi saremo allora a disposizione Dal 12 al 14 febbraio la Puglia sarà alla BIT 2015 con il vento in poppa ce ne parla Barbara Cirillo La Puglia è pronta a salpare col vento in poppa verso la BIT, la Borsa Internazionale del Turismo che si terrà a Milano dal 12 al 14 febbraio tre giorni per presentare a livello nazionale le eccellenze made in Puglia ma soprattutto per fare un bilancio del triennio di attività dell'Agenzia Regionale del Turismo in un momento di crisi infatti i flussi stranieri mostrano risultati in controtendenza come ha specificato l'assessore regionale al turismo Silvia Godelli Più 7% di turismo internazionale vuol dire 200.000 visitatori per gli open days vuol dire il successo dei road show nelle capitali europee vuol dire una domanda internazionale che si rivolge ai nostri territori e li trova organizzati e attrezzati con una forte riduzione dei costi a carico del bilancio regionale rispetto alle vecchie APT ma con una capacità di spesa di fondi comunitari che ci sta portando al 100% e anche quest'anno non mancheranno le masserie didattiche, gli show cooking oltre agli incontri come quello del 13 Travel Trends Forecasting l'Italia e la Puglia in un mondo che viaggia che vedrà esperti del settore confrontarsi sui temi della promozione turistica non mancheranno nemmeno focus sui road show we are in Puglia e sui Puglia Open Days con particolare attenzione al mondo rurale la vera novità della BIT 2015 come ha dichiarato l'assessore alle risorse agroalimentari Fabrizio Nardoni e anche quest'anno naturalmente quest'anno con un'attenzione particolare anche al mondo rurale attraverso il quale riusciamo a comunicare qual è la vera Puglia abbiamo deciso anche di trasferire ad Expo e lo racconteremo anche alla BIT progetti che interessano in maniera particolare anche questi percorsi rurali legati al nostro percorso naturalmente agroturistico ma soprattutto anche a quello enogastronomico che continua a avere grande successo mare di Levante questo è il nome della nuova rassegna che sarà allestita dal 29 ottobre al 2 novembre nei padiglioni 18-19-20 della Fiera del Levante nautica, pesca, turismo, diving, alimentazione alcuni dei protagonisti della fiera dedicata all'amore e alla passione per il mare sarà infatti un contenitore per vivere il mare come stile di vita accessibile a tutti ci saranno momenti di apprendimento, laboratori sulla preparazione alla degustazione del pesce ma anche corsi di avvicinamento alla navigazione grandi protagoniste le imbarcazioni l'ambiente chiama, Bari risponde questo è il titolo della tavola rotonda che si è svolta questa mattina a Villa Frammarino in cui è stata esaminata nel dettaglio l'ordinanza comunale per cui a partire dal 2017 saranno obbligatorie canne fumari o sistemi alternativi a norme sentiamo niente più fumi di scarico e odori di fritto e cucina di quelli difficili da levarsi di dosso a partire da maggio 2017 ristoranti, pub, frigitorie e laboratori di cucina dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni contenute nell'ordinanza comunale obbligatoria sarà la canna fumaria con sbocco in terrazza o sistemi alternativi e innovativi che possano non solo migliorare la salubrità dell'ambiente ma anche il benessere dei lavoratori proprio come il brevetto Made in Bari F quadro di Giustiniano Armenise intervenuto questa mattina alla tavola rotonda l'ambiente chiama, Bari risponde è un sistema che però non soltanto si preoccupa del benessere dell'ambiente esterno ma si preoccupa anche del benessere dell'ambiente di lavoro dei cuochi, aiuto cuochi e chi è in laboratorio e si preoccupa anche di dare un ambiente pulito e quindi non odoroso di chi consuma i cibi perché noi mettiamo aria nell'ambiente cucina quando andiamo a estrarre estraiamo un po' di più così gli odori non vanno in sala somministrazione così quando si alza non odora di canno di pesce e quello che andiamo a estrarre viene filtrato in maniera così spinta che può essere emesso direttamente in ambiente esterno a una temperatura ambiente e inodore senza dare problemi al vicinato Siamo alle previsioni del tempo per le prossime ore cielo nuvoloso con possibili rovesci temperature comprese tra 5 e 12 gradi venti moderati con rinforzi mari molto mossi vi ricordo come sempre i nostri indirizzi internet www.telebari.it e radiobari.net è l'indirizzo di posta a voi dedicato infochiocciole il segno di zorro.it per questa edizione è tutto grazie per averci seguito appuntamento più tardi grazie per aver guardato il video